bentornato sul nostro canale grazie ti sei iscritto e ti ringrazio tantissimo ci sono tantissime altre informazioni che puoi vedere che puoi guardare sul canale vedrai ci sono tanti altri video quelli che abbiamo fatto alcuni rai già guardati altri non è ancora guardati quindi non esitare di tornare su questo canale vedrai tantissimi video che abbiamo fatto su diversi temi quindi sai delle domande non esitare di commentare di condividere con i tuoi amici e poi ti risponderemo il più presto possibile grazie e rimani sempre collegato sul nostro canale e grazie perché ti sei iscritto grazie mille quindi sul sito permesso di soggiorno punto org e ci troverai ci troverai tantissime guide se hai bisogno di un'assistenza veloce su una pratica molto particolare quindi non esitare di scegliere l'assistenza personalizzata la possibilità di essere assistito anche via telefono e questo puoi scegliere in funzione della tua urgenza quindi ci vediamo tramite questi servizi di cui puoi usufruire e tranquillamente soprattutto per aiutarti a risolvere questi piccoli problemi questi servizi di cui hai bisogno per poter regolarizzare la tua situazione e il tuo soggiorno in italia grazie quindi siamo qua per te lascia nei commenti sai delle domande condividi con i tuoi amici ciao a presto nel prossimo video